Esiste un luogo dove il tempo rallenta, dove i sogni di un visionario prendono vita, dove la creatività, l'ossessione per il dettaglio, le esperienze dei maestri artigiani convergono e trasformano ogni sensazione in un capolavoro unico. In un mondo governato dal caos e dalla frenesia, nasce il desiderio di ritagliarsi il proprio spazio e di fermare la lancetta dell'orologio, per ritornare ad assaporare quell'attimo di libertà che ci rende veramente vivi. Diamo vita ad una forma del lusso, in grado di comunicare esperienze ed emozioni uniche. Questo è volere immedesimarsi in un sentimento puro, fragile e al contempo inimitabile. Ego, prodotti artigianali di lusso, capaci di diffondere una luce che dà vita alle vostre sensazioni.